Ciao. Io sono Anna. E in questo video ti svelerò alcune anticipazioni della sop turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Pericolo in arrivo per Asu. Emir scopre la verità. Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, una svolta clamorosa attende i telespettatori. Emir, infatti, scoprirà che la donna misteriosa che tanto cerca non è altri che sua sorella Asu. Le rivelazioni inizieranno a emergere quando Emir seguirà una serie di indizi lasciati da un misterioso sconosciuto. Questi indizi lo condurranno in diverse stanze, dove troverà varie fotografie del parente che tanto cerca. Grazie alla seconda fotografia, emergono dettagli sconvolgenti. La sua madre Mugeigan, aveva dato alla luce una bambina e non un maschietto come tutti credevano. L'ultima foto non lascerà spazio a dubbi, rivelando che la sorella misteriosa è proprio Asu. Il momento del confronto tra i due fratelli ritrovati è carico di tensione. La situazione raggiunge il suo culmine quando Asu, in preda al panico, estrae una pistola dalla sua borsa per difendersi. Gli occhi di Emir si riflettono di shock e incredulità, mentre la tensione nell'aria diventa palpabile. Quando tutto sembra destinato a degenerare, la situazione viene improvvisamente interrotta dall'arrivo della polizia. Gli agenti irrompono pronti ad arrestare Emir. La sorpresa è generale, ma le motivazioni sono chiare. Kemal ha consegnato alla polizia una penna USB contenente prove compromettenti sull'omicidio di Linda. L'episodio promette di essere uno dei più emozionanti e sconvolgenti della serie, con ripercussioni su tutte le relazioni tra i personaggi principali. Emir si troverà a fronteggiare non solo le accuse di omicidio, ma anche la scioccante scoperta della sua misteriosa sorella. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà questa intricata trama, e quali saranno le prossime mosse di Emir e Asu in Endless Love.